Se avete bentornato in questo nuovo video ragazzi Oggi vi spiego come attraversare questo ponte invisibile per raggiungere la guglia degli eretici Mi raccomando fate molta attenzione e equipaggiatevi di coltelli oppure palle e lanciatele a terra per farvi strato Un attimo che ammazzo questi scheletri perché veramente rompono Eh già rompono perché mi hanno fatto cadere due volte giù E quindi ragazzi io adesso vi auguro una buona visione Mi raccomando fate attenzione Se no qua vi... se cadete vi fate a panchicare e vi schiacciate Quindi fate con calma Grazie a tutti 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 Grazie a tutti